Un saluto a tutti voi carissimi amici, ascoltatori e telespettatori. Appena terminato il film di Franco Nero con tantissimi ospiti. Sgarbi qui con noi è un onore. Grazie. È piaciuto questo film? È un film molto autentico, nel senso che Franco doveva sfogarsi e ribellarsi dicendo delle cose da profeta e ha creato un film molto candido, molto ingeduo con una figura forte come legata a Dio grazie alla cecità che quindi è più sensibile degli altri e che dice cose sempre sagge ma soprattutto contro un mondo di finzione, di apparenza e quindi ha tradotto in un film il suo pensiero di fare un libro, un monologo ha scelto di costruire intorno alla figura di questo cieco veggente una morale sul proprio tempo che vede contaminato da tutto quello che è una dimensione più televisiva o più automatica che umana. Grazie signor Sgarbi per la sua presenza.